Navega in Sardegna e più precisamente a Selargius, un locale che prepara la crepe Epipo. E fidatevi, non è una cosa normale. All'interno mettono una crema spalmabile all'Epipo che si fanno produrre. Poi invece zucchero a velo Epipo in consistenza è gelato all'Epipo fatto da loro. Siamo da Zav in Viale Trieste. Ecco un amico fra lui.